Un fermo a policoro per l'episodio dei colpi d'arma da fuoco sparati contro l'ufficio di un notaio nel centro ionico in Largo Sant'Uberto lo scorso 26 gennaio. Il provvedimento emesso dalla procura distrettuale antimafia di potenza è stato eseguito giovedì mattina dai carabinieri della locale compagnia nei confronti di un uomo di 39 anni accusato di tentativo di estorsione e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso e di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma da sparo. Le indagini sono state condotte attraverso investigazioni tradizionali, ascolto di testimoni, intercettazioni ed hanno portato in tempi rapidi ad individuare l'autore della tentata estorsione. Il fatto contestato per le sue modalità ha suscitato particolare giustificato allarme in tutta la comunità di Policoro in quanto l'azione è stata commessa attraverso un attacco armato presso lo studio notarile, ubicato in Largo Sant'Uberto, che è stato raggiunto da almeno sei colpi d'arma da fuoco, finiti prima sulla porta dello studio, poi sull'insegna con lo stemma della Repubblica e infine sullo stesso stabile in diverse parti, seminando terrore anche perché la zona dove è avvenuto l'episodio, a quell'ora del giorno ed erano le ore 21 di un sabato, era particolarmente frequentata dalla popolazione. Le attività hanno consentito di chiarire anche il movente alla base del gesto criminale, che sarebbe connesso all'acquisto di un terreno ad un'asta giudiziaria da parte del notaio. Le investigazioni proseguono e potrebbero avere ulteriori sviluppi ai fini dell'identificazione di eventuali complici.